Le vincitrici della seconda edizione, Michela Ronzoni e della terza, Matilde Zarini, oggi entrambe cantanti professioniste, sono state le ospiti speciali della seconda serata di selezione del concorso Busto in Canta, assieme al coro onde armoniche con bambini dai 6 ai 13 anni. Del resto, giovani e giovanissimi sono stati protagonisti anche sul palco, con due concorrenti di soli 10 anni, fino al cantautore Bustocco Settantenne alla sua prima volta in concorso. Alla fine i sette più votati dalla giuria popolare di qualità parteciperanno, assieme ai vincitori della prima, alla finale in programma il 27 maggio in piazza San Giovanni.